ammiro la semplicità con la quale mi ha spiegato le cose essendo un dipartimento che non conoscevo il coraggio di lasciare tutto e ricominciare la tenacia e il coraggio di cambiare paese con una ragazza molto forte la determinazione sorrisi e presentazioni al lato fan ispirazione confronto di idee condivisione avere la capacità di cambiare paese e raggiungere ugualmente i propri obiettivi la resilienza è un concetto che dobbiamo tenere sempre a mente la crescita continua soprattutto anche in ambiente lavorativo decidere diciamo quegli ambienti che promuovono e favoriscono il tuo percorso di crescita sia personale che professionale mi ha detto di alzare sempre la mano quando c'è i dubbi rispetto a qualche discorso una donna che mi ispira sarebbe mia madre mia nonna tutte le streghe tutte le fatine che sono dentro di noi non ho una donna specifica un personaggio famoso che mi ispira ma in realtà sono le donne con cui interfaccio ogni giorno donne comuni ma non per questo meno eroiche